Ehi ragazzi, ciao a tutti i nick, bentornati qua su House Flipper Ragazzi, sto notando proprio adesso che il nostro ufficio non è ancora totalmente pulito Già sappiamo che l'esterno è da rifare ma attualmente ho il materiale ma non lo posso sistemare l'esterno Perché non abbiamo l'attrezzo giusto per posare le piastrelle, quindi dobbiamo ancora un po' aspettare Però intanto possiamo pulirlo meglio questo esterno perché come possiamo notare dalla minimappa C'è qualcosa che non va, nuovo punto disponibile Mocio Ultra, proviamo il Mocio Ultra, o è cambiato, o è diventato rosso Micchè mo c'ha il Mocio Ultra, non so di preciso che cosa cambia Cosa caspita cambia, boh, cavolo Beh, devo dire che, cavolo Non ci mette niente a beccare lo sporco però, non è male, non è male Almeno Mo lo sporco non c'è più Ok, allora raga, quindi prendiamo un lavoro, ne ho già trovato uno, ho già dato un'occhiata Dobbiamo sistemare un bunker Dobbiamo sistemare un bunker per la suocera di un tizio Questo non lo vuole neanche in casa, dice Sistemala nel bunker la suocera, tanto dice Però dice, va, non lo sistemare troppo bene sto bunker perché tanto alla fine non penso che campa ancora tanto la suocera Quindi insomma capite come si vogliono bene in famiglia questi Ci accedo da qualche parte Ah eccolo qua Immaginavo che era in garage il bunker, guarda Ah bene Cos'è sta roba? Questa non è roba da buttare, no? Ok, la luce funziona, almeno non ci devo pensare io Quindi in base alla missione Ecco, vedete, mo il coso per vendere me lo da Perché dipende dalla missione Dipende tutto dalla missione Allora, apriamo Odiamine, ancora con sti scarafaggi Beh Allora, prima di tutto meglio che rimuoviamo Rimuoviamo il grosso, raga, perché c'è troppo schifo Sta roba qui non me la fa togliere Poi vediamo Ok Rimuoviamo tutto quello che possiamo rimuovere a mano E poi vediamo quello che c'è da vendere Perché Sono sicuro che qualcosa da vendere ci sarà in giro Ecco Teoricamente ci sta ancora Qualche scatolino qua e là Ok Togliamo, raga, le ragnatele Eccolo Ci dovrebbe stampo Eccolo, l'ho beccato Ok Allora, pigliamo un po' l'aspirapolvere che togliamo sto schifo Togliamo il nido qua Di scarafaggi No, ma quante caspita ce n'è Ecco Questo tra un po' se le mette nel barattolo che gliele dà alla suocera Sì, ma ho la sensazione che non le ho rimosse tutte, 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 tutte Perché non mi appasse il messaggio E di fatti ne escono ancora Ma, allora, distruggi il nido, di fatti non l'ho completato Posiziona, pulisci lo sporco, rimuovi i rifiuti Eh, ma aspetta, qua c'è un problema Ma sta roba la devo sistemare? La devo mettere qui da qualche parte? Perché sti caspita di scarafaggi riappaiono Tornano Quindi il nido Ah no, ecco, è sparito mo' il nido Ah, ok Devo quindi sistemare la roba nei scaffali? Boh Beh, per correttezza lo posso fare Ok, raga Mancano, giusto, gli ultimi due, tre barattoli, qua Ecco, io lo metto proprio, guarda Pronto per cadere, io lo metto Io lo vado a mettere proprio pronto per cadere Allora, questo qua Oh, e va un po' meglio Cos'è sta roba? Gettare Questo è sollevare Vabbè, io sta roba la lascio qua A me che me ne frega Quella Guarda te che c'ha questo qua Si prepara la battaglia Guarda te Allora, andiamo un po' Con lo sporco ci siamo? No, pulisci lo sporco Ce n'è ancora 95% C'è stata qualche parte un po' di sporco Mo' lo cerco Ah, ok, fatto Posiziona l'oggetto turbina elettrica Dove caspita la dovrei mettere la turbina elettrica? Allora, e allora cerchiamola Turbina elettrica Ammazza 888 dollari Ah, ma si può girare? Certo, no? Sì, ovvio Dove la vado a posizionare mo' questa? Che la metto qua Ok Mobile da cucina con lavello Ma questo lo posso mettere dove capita? Non va collegato da nessuna parte Ok Mobile da cucina a due ante Ok Armadietto pensile a ripiani Ma che armadietto Dove caspita? Ah, questo va piazzato a muro Ok Cuccetta Ok Poi Fornello a induzione Fornello a induzione E questo chiaramente io lo piazzo qua Perché non è che c'è tutto sto spazio Poi tavolo semplice pure Falla mangiare per terra, no? Tavolo Semplice Ma non è che perché è semplice vuol dire che piglia poco spazio, eh? Ok Sedia in golf Che è una sedia ingolfata? Sedia in golf Sedia Oh, veramente Sedia in golf Cioè per me è una sedia ingolfata Una sedia a motore E poi sedia Un'altra sedia Ok Oh, ho spazio in quello che è Ma si deve accontentare Allora Poi Qua abbiamo finito in questa stanza Allora Qui c'è da pulire Mi sembra abbastanza facile Qua Ah, questo è il bagno E quindi mo' ci perdo mezz'ora qua dentro Ok Accendi Che abbiamo qua Il W W Si Il W Si Andiamo sull'economico Perché il tizio dice che Dobbiamo risparmiare Che la suocera Non deve campare molto La vuol far morire di sofferenze Ok Doccia Amico Questa è lenta Cavolo Ok Allora Montiamo la doccia Ok Doccia montata Che ci vuole Il lavello Montiamo quindi ragazzi Il lavello Lave Lo Lavello Ok Montiamo quindi pure questo E così Col bagno ci siamo Praticamente Vabbè che questo è un processo Abbastanza veloce La lavatrice No no La vuol far Puzzare la suocera Niente lavatrice Per la suocera Ma poi è bello che è la suocera Che la mette nel bunker Cioè dico io Che poi va a finire Che scoppia una guerra E l'unica che si salva E' proprio la suocera Allora O peggio non li fa entrare nel bunker Poi la suocera Mi dice E mo state fuori Disgraziati Allora Qui c'è da pulire C'è altro sporco A voglia se c'è sporco Cavolo Ho finita? No perché manca ancora qualcosa In una stanza Ah forse questi Li devo togliere No Perché mi hai preso Eh pulisci lo sporco Ah sporco E do gaspita è sto sporco Ah ok Fatto Mi 10.000 euro Per ste quattro cavolate Ammazza raga Ammazza Però purtroppo ancora Non abbiamo beccato Un lavoro In cui dobbiamo Praticamente In cui dobbiamo Praticamente montare Piastrelle Perché è quello Che vorrei fare Anche qui In ufficio E poi naturalmente Una volta che ho imparato A fare più e più cose Possiamo anche comprare Un appartamento Da sistemare Ma vediamo comunque Se troviamo un lavoro decente Qualcosa di Altrettanto nuovo Ok Un puntabilità Contrattazione Requisiti Ordini Possibilità di Contrattare il prezzo Eh potrebbe essere Una buona cosa Cominciamo da qua Allora Lavoro Posta Ordine pulizia Garage Pittura Casa da ristrutturare Necessario Bagni in più Vorrei qualcosa Che mi fa fare Le piastrelle Installare Temosifone C'è un sacco Di lavoro Da fare Può essere Che questa Ci fa fare cose nuove Non lo so Proviamo Non lo so Se ci fa fare Le piastrelle Ma dobbiamo provare Perché I lavori Di ristrutturazione Di solito Possono comprendere Anche le piastrelle Quindi Proviamo Nel modo più assoluto Allora Sta stanza L'ho già completata Nick è straveloce Vedi come le completa subito Le stanze Qui abbiamo Pulisci la finestra E Chiaramente E anche pulisci per terra Ma Non era diverso Prima questo O sbaglio Ok qua fatto Allora Qua è una passeggiata Sto mocio È una meraviglia Pulisci lo sporco Fatto E anche questa stanza L'ho completata Oh ma com'è che la gente Sporca in un modo assurdo Pulisci lo sporco Ah ma questa casa È uguale a quella Che abbiamo fatto ultimamente Solo che è arredato un po' In modo diverso È soltanto arredato Un po' in modo diverso Ma è uguale Allora Che caspita era Bene Puliamo È una cavolata Oh sto mocio È magnifico Raga È veramente Stupendo Straveloce Sicuramente bisogna Arredarla A sta stanza Sicuro Perché è troppo vuota Comunque ragazzi Sto notando che il gioco Lo aggiornano veramente Quasi tutti i giorni Si stanno a impegnare Mi fa veramente Tanto piacere Mi rende parecchio contento Ci tengono al gioco Sta andando bene Radiatore Acquista Monta Ah già forse mi conveniva prima Pitturare Ma vabbè dai Uguale ormai Ok allora Posizione oggetto Dipingi grigio E blu reale Che significa Ah forse Metà di un modo E metà di un altro modo Perché se no Non ha senso Allora Grigio A meno che non c'è un colore Che si chiama così Grigio E ovviamente non c'è Ok grigio Compriamo quindi Il grigio E lo applichiamo Lo applichiamo A queste pareti qua No Quindi Ok Ok Comincio a far pratica Raga Comincio a poco a poco A capire come funziona Ancora ho bisogno Di fare un bel po' Di miglioramenti Qua perché comunque Ancora pitturare Abbastanza lento E' un procedimento Veramente parecchio Lento Ok raga Col grigio Ci siamo Ah così comunque Si riesce a fare Ancora Abbastanza in fretta No Cavolo Cavolo no Quella parete no Vabbè Non importa E E blu reale Vediamo un po' Di trovare sto blu reale Perché c'è quello falso Capito Quindi Noi pigliamo quello reale Allora Boh Vediamo se Ci sto azzeccando Sì Ci sto azzeccando Perfetto Voleva proprio fatta Metà Metà Diciamo Stanze in un modo E metà stanze in un altro modo Questo E questo Fatto Allora Non li vendo questi Non li vendo Perché Forse che me servono Forse che mi servono Quindi Li mettiamo qui Nel Corridoio Certo che era bello Se per terra Mi faceva mettere Tipo dei fogli di carta Per non sporcare Col colore Perché era più realistico Allora Letto matrimonale Hermes Lo mettiamo esattamente Qua Perfetto Armadio Vira È un armadio Che fa Le virate Armadio Qua Cassettiera Doppia La giriamo E la piazziamo Qua Scaffale Lim Bene Questa stanza L'ho completata Direi proprio di sì Perfetto Dove devo andare Mo qua Eh quanta sporcizia Ok Puliamo Dove Ok Fatto Installa dispositivi E pulisci finestre Puliamo le finestre Allora Così Bene Un'altra Yes Allora Fatto Installa dispositivi Ovviamente Il radiatore Però quasi quasi Prima pitturiamo Blu Sognante Quella era Blu Reale Mo Blu S Blu Sognante Tutta Tutta di blu Quasi 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 Compro già un altro Barattolo Perché tanto lo so Che me ne servono Due Uno Non credo proprio Che me basta Quindi Raga Pitturiamo Stavolta Il termosifone Lo metto dopo Perché ovviamente Ha più senso Pitturare Senza termosifone Che con il termosifone Davanti No Ok raga Dai che non manca Molto E forse che Forse ci bastava Un barattolo E forse che Ci bastava Un barattolo Vabbè posso Comunque Rivenderlo Ok ma sai che Ci bastava Veramente Già 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 Ci bastava Vabbè Fa niente Allora Radiatore Acquista E installa Oh Un altro A posto Allora Questo Quasi quasi Lo vendo Questo invece Ovviamente No perché Ancora è bello Pieno pieno Lo mettiamo Sempre nel Corridoio Lo mettiamo Qua Questo però è reale E questo è sognante Non dobbiamo Confonderci Allora Letto Solido Ci vuole un letto Solido Che sta a dire Bianco 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 Ma si dai Ah si Letto Solid Quasi quasi Lo piazzo Qua Sembra quasi Un letto D'ospedale Cavolo La mettiamo Qua Chissà se c'è Veramente Il computer No Ma so di no Sedia da ufficio Ovviamente Va Pgliamola Bianco Perché ormai Stiamo a mettere Le cose più o meno Bianche Qua Armadio Charlie Brown Ovviamente Armadio Charles 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 Facciamo colore Più o meno Bianco Ormai che stiamo Andando di bianco Eccolo Oh caspita Lo metto C'è poco spazio Qua Ok lo metto Qua E poi Cassettiera Mal A post E mo Finito Ok Allora Dobbiamo No qui no Dobbiamo Andare Mo Qua dentro Il bagno Allora Mettiamo Il radiatore Questo qui Da bagno Lo montiamo Immediatamente Sì Ancora Punti di abilità Nuovi Niente Questo è fatto Mi sa che pure Qua è da Da pitturare Pulisci No Qui non devo pitturare Pulisci lo sporco E pulisci la finestra Ok Perfetto Una cosa facile Bene Puliamo lo sporco Ovunque esso sia Non lo so Non ne vedo Questo è da buttare Forse No 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 Questo non è da buttare Eccolo là Fatto Fatto Me In altra stanza Zozza Qui è da pitturare Vero Sì Qua Blu Sognante Meno male che Non ho buttato Il barattolo Là Quello Quello sano Quello sano Non lo posso Usare qua dentro Pulisci lo sporco Sì Ce n'è ancora Un po' Ok Fatto Posizione Installa Pulisci la finestra Facciamolo Mova Allora Puliamo la finestra Così ci togliamo Pure sto pensiero Questa è la prima Questa è la seconda Fatto Poi Pegliamo il blu Sognante Che dovrebbe essere Questo Il barattolo sano Mettiamo qua Dipingere Vediamo se è lui Lui è Ok Vediamo se c'è basta Stavolta Solo lui O se ne devo comprare Comunque un altro Spero tanto di no Ma vedremo Più in là E che ancora Non ho neanche messo Punti abilità Dove dice che Il risparmio Colore Oh Ok Abbiamo praticamente Completato il lavoro Almeno come Minimo Per concluderlo Ma ovviamente Noi lo portiamo A termine Come si deve Abbiamo già guadagnato La bellezza Di 6.726 euro Abbiamo già guadagnato Quasi 7.000 euro 10.000 euro Dal lavoro precedente Quindi dai Che Attualmente abbiamo 65.000 euro E tutto sommato Si va avanti Vediamo dove riusciamo Ad arrivare E appena Sblocco tutto Compriamo una casa Vediamo se ce la famo A completare il lavoro Forse Forse Ce l'ho fatta Oh meno male Ah questo lo vendiamo Vai Oh perfetto 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 Allora installa i dispositivi Quindi ovviamente Un radiatore Lo montiamo qua Ora qua dentro Ovviamente ci vogliono I soliti mobili Letto Eccetera 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 Ok Uguale all'altra stanza Perfetto Perfetto Questo è fatto Allora Mo qui Mamma mia Questa E' proprio Mal ridotta Questa stanza E' proprio ridotta A uno schifo I rifiuti Li ho rimossi Mo pulisco La finestra E Poi Puliamo Col mocio Ok Installa dispositivi Pulisci lo sporco Vabbè Tutto sommato E' una cavolata Da pulire Lo sporco Ma il tavolo Fa già schifo Di per senso Mamma Ehm Ce n'è ancora Un bel po' Di sporco Più che altro Sta qua Fatto Installa I dispositivi Il radiatore Oh Stanza L'ho finita Come niente Ok Fatto Bene Veniamo qua dentro Un mucchio di sporco Ovviamente Finestre Ormai Nick E' diventato Un esperto Non ci metto niente A sistemare Un appartamento Fatto Rimuovi i rifiuti Ci stanno Anche Eccola Mi sta la dispositiva E pulisce lo sporco Puliamo lo sporco Dobbiamo spostare Sto divano Qua Perché Si trova davanti Al radiatore Che ancora non c'è Però Si trova Comunque In un punto Che non va bene Quindi se riesco A metterlo Magari qua Radiatore Acquista E monta E anche questa stanza L'ho completata Bene Manca forse Un'ultima stanza Ok E completiamo pure sto lavoro Ma poi vediamo quanto paga Purtroppo ancora Non abbiamo trovato il lavoro Quello che ci fa fa Le piastrelle Completata A 100% 100% Termina Altri 10.000 euro Di guadagno Ok raga Ahimè Il tempo Vola via Abbiamo quindi Completato altri due lavori Abbiamo visto il bunker Speriamo che salta fuori Qualche lavoro Che ci fa fare cose nuove Perché so che ce ne stanno Cose che ancora non abbiamo fatto E poi raga Non appena Sblocco tutti gli attrezzi Compriamo una casa Anche perché Più soldi accumuliamo Meglio è Perché O comunque Compri la casa E poi ci devi anche Spendere soldi nella casa Quindi Ci vuole Ci vogliono un bel po' di soldi Prima che Posso effettivamente Comprare una casa Ok quindi ragazzi Spero che questo gameplay Vi sia piaciuto Mi raccomando Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Ci becchiamo A presto ragazzi Ciao alla prossima Ciao alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti